Senti, torniamo un attimo alla tua carriera. C'è questo neo che è l'esclusione dei mondiali del 2002. Come la vivi ancora come una delusione? Sicuramente è una parentesi della mia carriera che non vedo con grandissimo entusiasmo, anche perché per anni ho dedicato ore, mesi e giornate in palestra e poi nel momento più bello rimango a casa e partono le altre. Però è stato sicuramente un grandissimo banco di prova, perché ho capito che i veri vincenti sono quelli che cercano di trovare l'equilibrio tra delle vittorie incredibili. Io ho vinto il premio come miglior paleggiatrice al mondo e dei tonfi stratosferici come quello di rimanere a casa e vedere le compagnie che vincono. Senti, invece, mentre scrivevi il libro, guardandoti indietro, riguardando tutta la tua carriera, c'è qualcosa che non avresti fatto? Assolutamente no, io sono orgogliosissima di tutto quello che ho fatto, soprattutto anche delle scelte sbagliate, perché sono comunque farina nel mio sacco e non ho mai chiesto, sono stata allenata a scegliere velocemente, però per testa mia, quindi insomma non potrei mai rinnegare quello che ho fatto. Nella vita di ognuno ci sono incontri fondamentali che cambiano la vita delle persone, qual è stato il tuo incontro? Ma io ho avuto tantissimi incontri, incontri straordinari con allenatori che mi hanno davvero cucito la maglia giusta per essere poi la capitana della nazionale, incontri straordinari come quello con Riccardo Romani che ha collaborato e dato tanta luce a questo libro, incontri con persone che magari non hanno fatto neanche sport, che però mi hanno arricchito a livello proprio personale. Io sono una persona curiosa, sono una persona che ha viaggiato tanto, nel libro si parla di alcune fughe dai ritiri proprio perché ho visto il mondo, però volevo vedere anche un pochino fuori cosa c'era dall'albergo, con grandi rischi anche, però sono sempre stata abbastanza coraggiosa. Perché tu poi racconti che durante l'allenamento tu andavi a 2000, andavi tutta te stessa, poi una volta che tornavi a casa staccavi completamente e questa cosa magari poteva anche essere vista come una mancanza di attaccamento che in realtà non era così. Esatto, era una forma secondo me di difesa, ma io credo che sia anche giusto perché riuscire anche a staccare nel mondo, anche attuale, in quello che facciamo, la nostra parte lavorativa per poi dedicarsi anche a altre cose è importante. Io non ero certo una persona che giorno e notte pensava alla pallavolo, avevo anche tanti altri interessi, ero e sono tanto curiosa, quindi perché bloccare questa parte mia? Assolutamente no. Ti manca un po' il mondo della pallavolo? Tu lo racconti, fai ancora parte anche se sotto un altro aspetto, ma ti manca un pochettino ogni tanto. Tu hai smesso a 33 anni, anche relativamente giovane, ciò che devi ancora continuare. Io ho smesso presto perché volevo vedermi in altri ambiti, io adesso lavoro nel mondo della comunicazione, vengo utilizzata nelle aziende come trainer per sviluppare tematiche come la leadership, la gestione dei momenti di stress, che sono poi tematiche che io ho vissuto e rivissuto in nazionale col club. A me mancano le mie compagne, quelle sì, anche quella più odiosa, anche quella che avrei voluto dare un pugno ogni giorno appena non la vedevo, però le mie compagne, lo spogliato io loro sì, però sono sempre in contatto con loro, anche se non riesco a vederle come prima. La compagna più forte con la quale hai giocato? Quella che ti stava più antipatica non me lo direi mai. Ma guarda, devo essere sincera, la più forte sicuramente è Kiba Phipps, perché è stata un'americana che ha cambiato la palla a voi in Italia, io ero terrorizzata da lei perché lei proprio chiamava la palla con uno sguardo che se non glielo davi facevi una brutta fine. Antipatiche no, però magari avevano dei modi di fare che non erano simili ai miei, però proprio antipatia no, perché quando sei in una squadra l'obiettivo ce l'hai comune e te la devi far passare anche per simpatica, perché il percorso lo fa insieme a lei. Senti, parlavi di Zaitsev, il mondiale dei maschi non è andato, cioè era partito benissimo, purtroppo si è fermato, insomma si sono un po' fermati. Come mai c'è stato secondo te questo blocco nella parte finale? Io credo che abbiano fatto uno straordinario lavoro perché si è parlato di volley con un grande entusiasmo e grande passione, quindi questo è da riconoscere. La squadra è una squadra forte, è peccato forse nei momenti forse, anzi senza forse, importanti, però rimane una grandissima realtà. È stato bello vederli, tifare ed è stato davvero anche tanto appassionante. Ora ci sono le ragazze e bisogna soffrire perché comunque io quando guardo le partite ho sempre questa sofferenza come se fossi sempre in campo, sia nel maschile che nel femminile. Questo è un gruppo giovane, quindi va difeso, protetto, è un gruppo di ragazze che hanno tanta personalità, l'allenatore è un allenatore davvero tosto, che gli dà parola, le rende leader e quindi spero che vadano avanti il più possibile. Il mondiale in Italia di volley però ha dimostrato una cosa, che gli stadi si possono riempire, quindi c'è vita oltre il calcio e anche in Italia. Sì, diciamo che il calcio è la religione, perché ad esempio anche io in casa per poter vedere una partita devo chiedere l'autorizzazione del bimbo di 7 anni, grandissimo juventino, e quindi devo chiedere questi permessi, però è anche vero che ci sono tanti sport straordinari, non parlo solo di pallavolo ma di tutti gli altri che sono davvero belli, da vedere e da appassionarsi, quindi per me è stato motivo di grande orgoglio vedere e riempire tutti questi palazzetti, che davvero c'è stato un afflusso di gente incredibile, di gente che veramente si è divertita. Però guarda che lato positivo, tifono juventus, almeno ridono spesso. Ah, quello sì, quello sì, peccato che io tifo Napoli, quindi in casa ci sono dei conflitti incredibili, mio figlio ce l'ha morto, ce l'ha morto. Poi l'anno scorso che c'è stato anche, ho rischiato, era arrabbiatissimo, mi ha detto che la colpa era la mia, quando il Napoli ha battuto la Juve a Torino, lui ha pianto e ha detto che la colpa era la mia perché tifavo Napoli, quindi ti dico solo questo. Senti, un'ottima domanda, quando tu hai finito la carriera i social stavano decollando, tu ora stai sui social, come saresti, io ti vedo, siccome tu eri un idolo in Italia, soprattutto anche adesso, però quando giocavi, secondo me se tu, se i social fossero esposi quando tu ancora giocavi, saresti diventata, non so, tipo un Cristiano Ronaldo, avresti avuto dei followers clamorosi, ci pensi mai? Ma sarebbe stata la tua vita social? Tu saresti stata social? Ma diciamo che io sono una persona molto socievole, molto aperta, però allo stesso tempo mi piace vivere la mia vita per i fatti miei, quindi non so se sarei stata davvero così entrante, mi piace comunque gestire i miei social, ma lo faccio con grandissima serenità, scrivo come, quando mi pare, non ho questo obbligo di dover dire ogni giorno cosa ho mangiato, dove sono andata, perché, per come e mi diverto, ecco, l'unica cosa che faccio vado a vedere cosa combinano i miei compagni di squadra, dove sono andata, perché, cosa stanno facendo e poi le chiamo. Poi tu, comunque, hai anche fatto altro, oltre alla pallavolo, insomma, hai partecipato a un reality, hai recitato al cinema... Sì, anche questa parte della recitazione, è una parte di un minuto dove ci ho visto otto giorni e mezzo... Allora, hai fatto un cameo, diciamo un cameo, ma è più difficile recitare e giocare oppure scrivere un libro? Ma guarda, io credo che la cosa che mi piaciuta di più è stata scrivere un libro, è stata scrivere un libro, anche perché questo libro è stato scritto di notte, e quindi non è stato facile, perché tutto il giorno avevo i bambini, è stato scritto quest'estate, quindi una stanchezza devastante, però è come avere un figlio, è un'eredità che io lascio ai miei due bimbi, e giocare è una passione, però la facevo con grandissima naturalezza, io non sono una scrittrice, di sicuro non sono un'attrice, neanche ci penso, perché quell'esperienza è stata traumatizzante, anche perché il regista secondo me ha pensato che ero un idiota, perché per dire tre parole ci ho messo tre giorni, e quindi diciamo che insomma di tutto questo prendo la palla a volo e... I dosidi non potranno non credere dopo aver letto questo libro, insomma, questo vale più di tutti i 17 trofei che ha vinto in carriera. E' sempre dura, ora ci sono le prove, ecco. Grazie Maurizia, grazie a te, davvero, è stato un piacere. Insomma, ricordiamo quindi l'appuntamento nelle librerie italiane senza rete. Dal 10 ottobre. Dal 10 ottobre. Tutti a leggere, tutti interrogati, dovete sapere a memoria ogni pagina, vi stalkerizzerò, ecco. Questo è il libro, grazie ancora Maurizia. Grazie a te. E alla prossima. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao.